La CISL esulta per il risultato elettorale alla FMA. Siamo ancora una volta alla prima organizzazione sindacale, a dispetto di chi parlava di ribaltone e corazzata, pronta a conquistare la prima fabbrica irpina. Precisa il segretario della CISL, Mario Melchionna, pronto a scommettere sulla ripresa dello stabilimento irpino già a partire da settembre. Ben 507 le preferenze raccolte dall'organizzazione guidata da Vittorio Guida. Al secondo posto si è piazzato il Fismich di Giuseppe Zolino con 483 preferenze. Terza l'UGL con 245 voti, chiude la Wilme con 159 voti. Il rilancio ripartirà da questa squadra di persone molto motivate che hanno avuto il consenso dei lavoratori. Siamo la organizzazione sindacale più rappresentativa in azienda in assoluto, sette rappresentanti tra i lavoratori, l'unico ad avere il rappresentante tra gli impiegati è la CISL, è nessun'altra organizzazione. Quindi siamo maggioranza assoluta in quell'azienda, siamo fortemente soddisfatti per l'impegno che queste persone hanno messo, per il consenso che hanno ottenuto. Adesso siamo impegnati perché ci sia il rilancio di questa azienda. Gli impegni che ha assunto Marchionna dovranno concretizzarsi. Noi siamo fiduciosi, ma questo non significa che noi staremo in qualche modo a guardare. Noi seguiremo passo passo la vicenda perché c'è la necessità di stare addosso all'azienda in termini sindacali, perché abbiamo necessità di seguire le questioni, l'evoluzione delle vicende e poi come sempre dare una mano come sindacato sia nelle istituzioni che a livello nazionale, che a livello territoriale perché le questioni, gli obiettivi si raggiungono se c'è la sinergia.